ciao allora oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti le ciprie allora oggi vi parlo di questa cipria della essence your better work fixing power questa qui che dice di essere gin proof waterproof eccetera eccetera intanto la confezione è un 9 grammi e costa 4 euro e 49 è questa qui che adesso ve la mostro aspettate ok all'interno della confezione se la riesco ad aprire ecco abbiamo la spugnetta l'ho conservata per voi e quindi è perfetta anche per i ritocchi fuori casa e poi c'era il prodotto che ovviamente ho finito ma tanto lo vedrete ecco per i ritocchi dato che c'è la spugnetta sarebbe stata comodo anche uno specchio a mio avviso sarebbe stata davvero più completa comunque è una cipria da 4 euro e 49 allora prima cosa attenzione perché sbianca tantissimo il viso è una cipria compatta bianca e quindi sbianca davvero tanto quindi date una spolverata di cipria a altra cosa fate attenzione perché la patina bianca si vede quindi rimuovete la dai facili ma si rimuovete la tentamente però è facile con un pennello la spolverate e viene via subito sbianca molto quindi si e dopo bisogna fare un bel contouring oppure va applicato solo in alcune zone ma si nota non è una cipria proprio non mi viene la parola però per dire come si dice quando voglio qualcosa che passi inosservato ecco lei non passa inosservata se non prestato attenzione però semplicemente un pennello largo la spolverate via ed è che fa un po di strato sul viso ma sempre stessa cosa fate con molta delicatezza allora l'unica cosa che prima di fare di vedere il test è che questa spugnetta che è comoda per ritocchi usatela solamente in caso di necessità quindi se siete fuori casa poi una parte con la cipria cipria e poi con l'altra parte andata a tamponare per rimuovere l'eccesso perché si nota è inutile la cipria che si nota però io adesso passerei al test applicazione per vedere se davvero gene proof e water proof quindi insieme allora proviamo questa cipria il better work della s si vede che manca lo specchio già cosa perché ha la sua solita spugnetta e poi si presenta così allora andiamo a settarla io invece della spugnetta uso una blender ovviamente quando andiamo a provare una cipria dobbiamo fare una base ed ecco quindi fondotinta e correttore che già sappiamo come si si comporta perché sennò facciamo fatica dunque io con ok poi pennello ok allora dunque adesso ci troviamo con il viso bello bello avendo la pelle mista dobbiamo andare a guardare durante il giorno che è tanto che la cipria non vada a segnali filarsi nelle rughette del contorno occhi e poi dopo come si comporta soprattutto sulla fronte e sul naso che sono i punti per me più particolari e vediamo se davvero non sia gene proof almeno che testi un pochino adesso devo andare a finire il trucco perché questa cipria sembra impalpabile ma lascia un attimo un colore un po' più bianco quindi bronzer blush illuminante tutto in polvere per non andare a intaccare e la cipria quindi niente crema ed è vediamo allora 11 e 53 qui nel caso che davvero mi do una mossa ed è iniziamo ufficialmente questo testo allora eccoci con l'aggiornamento cipria delle 18 e 37 quindi sono passate sei ore sei ore vediamo anche perché comunque se ci interessa a vedere come si comporta allora nelle pieghette non c'è andata più di tanto anche se un pochino è segnato è segnato ma non tantissimo come altre cipria quello che ci interessa è come si è comportata come opacizzazione allora naso lucido neanche tanto solamente ai lati e la fronte si è leggermente lucida ma neanche tanto per sei ore mi sembra che si sia comportato bene unica cosa che va bene so c'è la luce quindi ok però dovete stare attenti a non applicare la cipria sì ma tende un pochino a sbiancare il viso quindi dopo un po di contouring va fatto però per il resto no sinceramente ho trovato cipria che segnano molto di più questo appena appena ok punto solamente ai lati del naso ma ci sta dopo sei ore e la fronte appena appena però se guardate non risulta puntissima quindi ci sta ci sta tutto per adesso direi che mantiene le promesse allora l'ultimo aggiornamento dunque sono le 20 e 33 quindi direi che è ora di guardare la cipria come messa dunque 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 a oa cartina le mani per vedere ha segnato un pochino il contorno occhi ma ha segnato in maniera impercettibile quindi ok e adesso vediamo le zone che mi interessano dunque vi dico già che naso i contorni più che altro i contorni del naso si sono un po lucidi però sono le 20 e 33 e ora 34 ed è l'ho messo su che erano un mezzogiorno più o meno quindi otto ore e vediamo la fronte si anche la fronte non scherza infatti a lucidità però sinceramente otto ore di cui comunque sia sono stati in giro come avete visto sono andate in ambienti freddi poi in ambienti caldi e quindi ecco un bello spazio di temperatura il resto posso provare ma non è eccessivamente unto si un pochino si però non eccessivamente non si vedeva anche che non è altro punto tranne la fronte un pochino e i lati del naso direi che si è comportata anche bene e quindi direi che questo era l'ultimo aggiornamento ed è ci vediamo più a considerazione allora avete visto che è una cipria che non è il massimo ma comunque sia funziona effetto waterproof no effetto gym proof dipende in inverno potrebbe essere in estate sudando ancora di più incredibile no comunque sulla mia pelle mista tende a durare abbastanza quindi me la rende me la lascia ecco opaca più a lungo il suo lavoro lo fa anche se non proprio questo un wow di effetto ma sul lavoro lo fa scusate ok ed è comunque attenzione sempre che sbianca attenzione che si vede però è applicata sul viso comunque sia ed è tende a lasciare più opaca più lungo la zona t non va a spostarsi durante il giorno non si agglomera con il fondotinta quando tende a lucidarsi di più quindi non fa macchie di colore quindi con un po con attenzione usando un bel pennello largo e andando a rimuovere eccessi è una cipria che funziona effettivamente mi rende la pelle mista ed è più opaca più a lungo ok si potrebbe essere comoda anche da portarsi dietro per i tocchi come ho detto attenzione con il pennellino con la spugnetta ed effettivamente non è che ho tanto da dire non funziona sì ma niente di che ne trovate i migliori però ricordiamo che la cipria da 4 euro e 49 quindi perché no unica cosa che devo segnalarvi nell'inci perché sono presenti dei siliconi quindi questo effetto super opacizzante è dovuto anche a questo però niente è una cipria da 4 euro e 50 arrotondiamo che funziona effettivamente sulla pelle mista tende a funzionare a se andiamo a fissare il correttore non tende ad andare nelle pieghette non lo secca non l'evidenza di più segni di espressione quindi per questo ok non va ad evidenziare le ruette o eventuali segni e quindi funziona si non avrà l'effetto waterproof ma comunque sia funziona attenzione perché sbianca se non ve l'ho ancora detto comunque sia e fatemi sapere qui sotto se l'avete trovata come se trovate se vi ho rincorragito perché adesso sta riuscendo e in questo periodo sta riuscendo questa collezione quindi magari è il momento di provarla con questa torgimenti perché sbianca e niente fatemi sapere se mi sono stata utile e noi ci vediamo al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao